Quali sono i soldi di riprese e resilienza? Non potranno essere utilizzati perché siamo praticamente in scadenza d'anno. Altra cosa che si può fare immediatamente è quella di azionare i fondi rotativi ma soprattutto fare, ecco qui ci potrebbe essere la collaborazione dell'opposizione anche perché il nostro progetto Massafra 2030 era orientato alla Massafra sostenibile e già comprendeva molti dei finanziamenti che saranno progettati proprio in seguito all'approvazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. Chiediamo il massimo della concentrazione e la possibilità di fare una cabina di regia dove noi possiamo condividere anche le nostre idee su quella che potrà essere la Massafra del futuro per fare in modo che non un euro di questi soldi vengano dispersi. Quanto a Sant'Agostino, ecco noi abbiamo semplicemente segnalato l'amministrazione intanto che bisogna dare seguito alle opere che erano già finanziate e quindi tutto quello che è stato già messo in cantiere che ad oggi ancora non vediamo e speriamo che nei prossimi giorni vengano cantierizzati. Mi riferisco alle lungovalle, mi riferisco anche alle grotte parlanti. Quanto a Sant'Agostino abbiamo nuovamente segnalato una preoccupazione forte da parte di associazioni che operano sul territorio, che sono molto attenti al problema dell'archeologia del territorio di Massafra, che hanno evidenziato un aspetto probabilmente legato alla mancanza di un parere della sovraintendenza archeologica. Il sindaco ha risposto dicendo che ha avuto un incontro con la sovraintendenza e hanno chiarito questo aspetto, tra l'altro hanno condiviso dei piccoli interventi da fare per modificare il progetto già appaltato. Auspichiamo che questa risposta soddisfi questi stakeholder, queste associazioni interessate al problema dell'archeologia. Per quanto mi riguarda la mia posizione personale e quella del gruppo che rappresenta, puntava più alla salvaguardia dell'aspetto archeologico senza aggiungere cemento in quell'opera perché, ripeto, è un nostro patrimonio che va salvaguardato e se possibile andava data la possibilità di fare ulteriori scavi. Il sindaco ha detto che probabilmente gli interventi che faranno non impediranno ulteriori scavi. Io qualche riserva ce l'ho. Speriamo che queste risposte che ancora avremo chiariscono in maniera definitiva la questione. L'opposizione oggi si è mostrata, come sempre ha fatto, non solo attenta alle questioni, ma ha dimostrato che è possibile stare anche dai banchi delle opposizioni, votare a favore dei provvedimenti che vanno nell'interesse della comunità, ma soprattutto stigmatizzare le cose che non vanno, come è accaduto ancora una volta per la reiterata la questione dei debiti fuori bilancio. Io, per quanto mi riguardo, presterò il massimo dell'attenzione a questi debiti fuori bilancio, specialmente questi debiti generate dalle multe, dalle sanzioni al codice della strada, che è vero, come dicono, che molte di queste sanzioni vanno a buon fine, ma è anche vero che non è possibile ad oggi pagare delle sanzioni perché non ci siamo presentati in tribunale per sostenere, per perorare la nostra causa. Questi sono soldi dei cittadini, le tasse i cittadini le pagano per i servizi e non per rimborsare avvocati per le spese legali dell'ente.